Oggi con noi è arrivata Marta Francucci, eccoci con Marta! Statuaria! Quanto sei alta Marta? 1,70 Tantissima, sono i tacchi, perché? Grazie mille per essere con noi Oggi abbiamo una novità, perché di solito facciamo i calciatori Le moglie dei calciatori, le fidanzate dei calciatori Ma mai le mamme dei calciatori E invece mamma è Marta, perché è mamma di Mattia Valotti Facciamo un applauso a Mattia Valotti, due gol Un paio di settimane fa due gol addirittura Allora parleremo con te, hai visto Paolo? Che bella cosa che abbiamo organizzato Vediamo questa nuova rubrica, l'idea di vedere anche tutto quello che sta un po' alle spalle Di quelli che sono i personaggi che noi poi ogni tanto intervistiamo Credo che sia una bella idea Vedremo, vediamo Vediamo, anche perché quanti anni ha Mattia? 24 24, ma è un uomo, fatto e finito Abita Verona adesso, giusto? Abita Verona, esatto Hai fidanzato Mattia? Sì, alla ragazza Beh, questo è un argomento Alla ragazza Alla ragazza Alla ragazza Alla ragazza Che è un po' diverso Passa la volta Passa la volta La mamma Tra poco parleremo insieme un po' di questa esperienza Di cosa fa lui Ma soprattutto di come si vive essere mamme Di calciatori Però i nostri ragazzi Non li ho presentati Mi chiedo perdono Sono i ragazzi dell'Eceo Artistico Manzù Loro sono degli artisti veri Hanno preparato anche una scheda Una social card per Marta Francucci La vediamo Io non l'ho vista Non è che voglio prendere distanze Però la guardiamo assieme Ok, d'accordo Paolo, vi fido Fidiamoci Non è che possiamo fare molto altro Fidiamoci Chi l'ha preparata? Chi l'ha preparata? Di là, subito Alessia, tu l'hai preparata? Ci fidiamo Alessia? La social card di Marta Francucci Via Marta Francucci è una donna energica E sempre impeccabile Madre affettuosa di tre fantastici figli Benedetta, Alessandro e Mattia Valotti Moglie di un ex calciatore E madre della promessa del Verona Sostiene con grande entusiasmo La carriera del figlio E si assicura di trasmettere La sua passione e tenacia Ai due più piccoli Nel periodo natalizio Riscopre la sua passione per la grafica E si cimenta in fantastici collage Con effetti da urlo Donna affascinante E amante della moda Il fashion fa letteralmente parte di lei Così come la cura della pelle Che si premura di trasmettere anche ai figli Ama passare le sue giornate In ritmi frenetici Tra parrucchiere, dolci, bancarelle e baci Amante di animali Ha un tenero cane Maestro di occhiolini Insomma è circondata da calore e affetto E sui social cerca sempre di mostrare il suo lato migliore Cattivi Marta hai qualcosa da dire? Beh è stato bellissimo Però magari l'ultima foto potevate evitarla L'ultima foto potete non evitarla Abbiamo vinto No abbiamo votato L'ho vista però No scherzo Tutta cosa è pubblica Tu sei una persona che usa tanto i social Su Instagram, Facebook Così o poco? Ma sono partita per scherzo sinceramente I miei figli mi prendevano anche in giro Dicendomi Mamma dai Instagram non hai poi fondamentalmente per te Perché poi le mamme vengono viste sempre con un occhio Magari sai la mamma Capita anche a te Marta Capita anche a te Sì Capita anche a te Mi consolo Non sono l'unico Però invece poi ho preso il via E quindi mi piace Mi piace Mi sembra comunque un'idea giovane Per rimanere a contatto appunto con questo mondo E non invecchiare Tre ragazzi Tre figli Tre figli Mattia gioca a calcio Dopo tra poco ne parleremo Anche gli altri giocano a calcio Oppure fanno altri sport Allora Benedetta Ha 19 anni Frequenta l'ultimo anno di scuola superiore Liceo linguistico E Dove lo frequenta? Qui al Falcone di Bergamo Al Falcone? Sì 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 Qui E lei sì ama lo sport Ama seguire molto suo fratello E ama lo sport Frequenta la palestra Come molti giovani diciamo Ma ragazzi Però non agonistico Non agonistico Più per tenersi in forma Più per tenersi in forma Esatto Invece Alessandro Il piccolino Che ha 9 anni Era partito anche lui Con il calcio Con la passione del calcio Poi ha avuto un attimo di stop E mi ha detto Mamma non voglio più fare calcio Voglio fare basket A quel punto Ho lasciato scegliere a lui Perché mi sembra giusto Che la scelta venga Anche perché Se il papà giocava a calcio Se il fratello gioca a calcio In serie A È naturale Che faccio il basket Infatti ci siamo guardati Che Paolo è l'educatore Paolo No no Bene diversificare Perché non è che questi confronti Sempre continui in famiglia Aiutano Diversifichiamo Non fa male Esatto Infatti ci siamo guardati un po' strani A casa Sembrava veramente La pecora nera Tra virgolette Poi ho detto È giusto che decida lui E che sia lui Libero di scegliere E ha scelto basket Dopo dieci mesi È tornata a casa Dicendomi No mamma Il basket non è per me Voglio tornare a fare il calcio Ah è tornato Sì sì Molto determinante Ma anche il ruolo gioca a lui Ma lui è un po' come il suo fratello Centrocampista Trequartista Il suo ruolo Quello che piacerebbe a lui Poi ancora è piccolino È tutto da definire Ma Marta è una mamma Di quelle proprio tifose Quella che di solito Vengono lasciate fuori Dall'allenamenti Perché allenatori Dicono stia fuori signora Oppure sei quando sei Quando vedi tuo figlio Così sei abbastanza distaccata Allora sono molto attaccata Al punto di vista Di tifosa Questo sì Però non sono mai stata Di quelle mamme Che si mettono dietro Alle reti A sbranare gli allenatori O tantomeno A gridare contro gli avversari Di mio figlio Perché ritengo che Non sia educativo Ho sempre visto La partita dagli spalti In modo tranquillo In modo sereno Tifando mio figlio Mai parolaccia all'arbitro Mai parolaccia all'arbitro Mai schierata contro l'allenatore Perché ritengo sia giusto Mattia che è abbastanza giovane Non ha giocato mai nell'Atalanta Però Mattia No Suo padre sì ma lui no No Mattia no Ha fatto le giovanili del Milan Ho visto giusto Giovanili del Milan E poi dove ha giocato ancora Poi ha giocato nel Verona Nel Livorno Nel Pescara E poi di nuovo è tornato a Verona Come si trova quest'anno Ha fatto una doppietta È stato su tutti i giornali Così però Ha avuto delle prestazioni precedenti Anche abbastanza belle Si trova bene quest'anno? Sì lui si ritrova benissimo a Verona Lui dice che comunque È una città ideale per vivere È una buona società E è contento di essere lì E la sua ragazza Come si chiama la sua ragazza? Roberta Roberta Eva d'accordo la mamma con Roberta? Sì 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 Perché di solito i calciatori Paolo dico a Paolo Perché di solito fa il mio interfaccia Devono trovare anche la compagna giusta Perché se magari pensa più ai selfie Oppure a andare tutti i giorni in giro Non lo fa concentrare sul calcio Invece lei è una di quelle persone proprio che aiuta? Sì sì è una brava ragazza E poi soprattutto ama diciamo la sua vita E rispetta quella di mio figlio Quindi Ci sono tanti sacrifici Noi vediamo Non so con Anton Leonardo sono dei ragazzi Oppure anche Christian Possono pensare al mondo del calcio Come tanto Tanti soldi Bel gioco Belle macchine Però c'è anche una parte diciamo di sacrificio Di fatica Perché noi non vediamo poco Poi la mamma che di solito è premurosa Certo È così Il sacrificio c'è Devo dire la verità Mio figlio di sacrificio Ne ha fatti veramente tanti Perché nonostante tutto Amasse appunto questo sport Lo portava ad allenarsi Tutti i giorni della settimana Però la scuola non l'ha mai abbandonata Cioè è stato sempre seguito Perché fondamentalmente Abbiamo sempre fatto capire a Mattia Che la scuola è importantissima Serve molto per crescere Serve anche per crescere Dal punto di vista calcistico Perché comunque la scuola è fondamentale L'istruzione è fondamentale E quindi lui comunque è riuscito A sbarcamenarsi Tra gli impegni dell'allenamento E gli impegni scolastici Questo devo riconoscere Ha finito la scuola di superiori Mattia Oppure che idea di Non so è da grande Cosa vuol fare? Fai l'allenatore? Vorrebbe fare La scuola l'ha terminata Diplomato E vorrebbe riprendere anche l'università La pressione mia Abbastanza insistente su questo La mamma ci tiene Studia Mattia Non giocare a calcio Cioè gioca a calcio ma studia Sì sì è vero È così Spero che si iscriverà All'università più presto Quale università ha in mente la mamma? Management Quelle cose un po' A me sinceramente piaceva giurisprudenza Infatti lui mi dice sempre No mamma non è per me Però è giusto che anche lì Deba scegliere lui E lui vorrebbe fare Scienze Votorie Giustamente Rimanendo nel campito Nel suo campo Nel suo campo Ma Ultima cosa che chiedo di Mattia Perché Come lo vede la mamma? Che tipo è? Un tipo impulsivo? È un tipo invece costante? È un tipo Cocciuto? Come lo descriverebbe il suo figlio? Allora Mattia è un ragazzo molto determinato Molto Molto sicuro di sé È anche Un ragazzo Che ha bisogno Dell'appoggio Molto dell'appoggio Della famiglia Dei consigli della mamma Del papà Sicuramente Il papà lo consiglia? Da ex calciatore Il papà lo consiglia? Sì sì Il papà lo consiglia Però sempre E se viene il papà Come nei consigli Oppure No In una maniera giusta Una maniera giusta Sì poi Mattia comunque Sa andare avanti benissimo Con le sue gambe Sia dal punto di vista Proprio di gambe Sia dal punto di vista Di testa È molto Molto sicuro Sì Paolo Attenzione Abbiamo una telefonata Abbiamo il prossimo ospite Paolo Sentiamo Posso rispondere subito Pronto? Ciao ciao Sono Robby Ah ciao Robby Sei arrivato? Ok Alla portineria allora Allora mando Paolo Così ti accoglie D'accordo? Sei già lì? Siamo qui in trasmissione Ma ti mando il nostro produttore Così ti riceve lui alla grande D'accordo? Bene D'accordo Grazie mille Ciao figurati Ciao figurati E invece Marta Per quanto riguarda te A me interessa La parte di tuo figlio Però anche la parte Della donna Che sei Di quello che desiravi essere Quando eri una ragazza giovane Hai sposato un calciatore Hai sposato Allora era un sogno Ma chi era Marta Quando era una ragazzina Quando aveva 19 anni Come loro 17 18 anni Ma era penso Una ragazza come loro Sicuramente meno social Perché non esistevano i social Non c'era il cellulare Però era una ragazza Secondo me Una brava ragazza Nel senso Che comunque avevo i miei valori Quindi amavo già Crearmi una famiglia Avere dei figli Di dove sei tu? Dove sei nata? Io sono Umbra Sono di Terni Precisamente E come hai conosciuto Tuo marito in quel caso? L'ho conosciuto Perché lavoravo A San Benedetto del Tronto Che lavoravo In uno showroom Come modella E mio marito Giocava nella San Benedettese E per quello L'hai conosciuto il calciatore Sono cambiate un po' le cose Adesso Rispetto a una volta Proprio quel rapporto Con i calciatori I calciatori una volta Magari avevano appunto Erano meno famosi Adesso sono delle star Guadagnano anche un sacco di soldi Una volta gli stipendi Bisogna dire Non erano così alti Come sono adesso Non si rischia forse Non si rischia forse anche Che sia un mondo Che può esplodere Anche tu Mattia Non gli dici Stai calmo Mattia Perché può essere pericoloso Ma secondo me Già è un po' esploso Perché comunque I contratti si sono Veramente Molto Alzati Sì si sono aumentati In alcune serie In alcune diciamo Che si sono anche Abbassati rispetto a prima Comunque sì È una realtà Che a quell'età Potrebbe dare un po' Fuori Potrebbe dare un po' Alla testa Ecco perché è importante Essere diciamo Coscienziosi Bisogna essere coscienziosi E essere molto culati Capire che comunque La carriera è molto breve Perché fondamentalmente La carriera di un calciatore Massimo può durare Il caso di Totti È un caso Se no 10-15 anni Esatto Se no ecco 35 di solito La carriera finisce Per cui devono essere bravi A capire A mettere da parte i soldi Di non sperperarli E soprattutto Vedere un po' In futuro Quello che potrebbe essere Per loro a 35 anni Riprendere una nuova vita Perché fondamentalmente A 35 Finisci di essere calciatore Cosa fai? Per cui Capire un po' Già da subito Quale potrebbe essere La tua prospettiva Ma tipo I soldi guadagni a Mattia Tu gli dai qualche consiglio Oppure si arrangia lui Oppure ancora un Ma noi a casa parliamo molto Mattia si appoggia molto A quello che sono I consigli Di famiglia Diciamo Quindi ancora È appoggiato molto In questo Negli investimenti Si chiede Anche perché È un po' ignaro Di questo mondo Perché fondamentalmente A quest'età Ha visto soltanto il calcio Quindi quello che può essere Un investimento Magari ancora Non può essere Nemmeno in grado Di poterlo valutare Per cui Si appoggia molto Ai nostri consigli E tu cosa fai invece Nella vita Ho visto prima La moda Ancora Sei in quel settore lì Cosa fai di bello Ho aperto Ho realizzato il mio sogno Avevo il sogno Quando ero bambina Di avere un negozio Di abbigliamento A tuo proprio E ho aperto Questo negozio di abbigliamento In Bergamo In Via Spaventa Mi faccio pubblicità Adesso Noi siamo l'unica A trasmissione Della pubblicità Che è comunque Alla luce del sole Senza Ti sei spaventata E hai fatto In Via Spaventa E perciò Era il sogno della tua vita Anche quando ero una ragazza Voglio avere qualcosa di mio Voglio avere qualcosa di mio Poi La carriera Di mio marito Logicamente Mi ha portato A girare Ogni anno Una città diversa Quindi non potevo mai Realizzare questo sogno Poi è arrivato il momento In cui mi sono fermata In una città Quindi a Bergamo E Bergamo Ti piace Bergamo Visto che tu sei Umbra Hai girato parecchie città Ho fatto fatica all'inizio Hai fatto fatica Perché ti ho ritrovato Di faticoso Ma è perché È una città Fondamentalmente È una città Molto più chiusa Rispetto alla città Del centro-sud Diciamo E quindi Un po' questa Chiusura Un pochino Mi frenava Non mi faceva essere Me stessa Poi invece Mi sono Catapultata In questa realtà E adesso Devo dire la verità Che non la lascerei Per nessun'altra città Al mondo Allora come non possiamo Non ringraziare Che sei andata in gola Anche tu Grazie mille dunque A Marta Franculci Per essere con voi Grazie It's a beautiful day